Ancora un codice arancione per piogge temporali, vento forte e mareggiate che interesserà tutta la Toscana ad emetterlo la sala operativa della protezione civile regionale. Voglio dirlo per dare informazione ai cittadini, il meteo, l'allerta è arancione, quindi non è di quelle più semplici, di quelle che potrebbero avere conseguenze gravi. In nottata sono attesi forti temporali e anche forte vento, quindi occhio alla penna, non andate in locali sotterranei, non andate nei sottopassi, evitate se potete di prendere la macchina e rimanete a casa. Tutto ciò che nei locali sottostrada, mettetelo al sicuro perché potrebbe esserci nuovamente rischio allagamenti.